Ben ritrovati da Piazza Affari con l'evento di Benpepa Ribas sui portafogli evoluti e i certificati di investimento. Siamo in compagnia di Michele Fanigliulo di Intermonte, benvenuto. Buongiorno a tutti. Ecco la domanda che volevo fare a Michele, appunto qual è il valore aggiunto che offrono i certificati in un portafoglio di investimento evoluto? Assolutamente, il certificato è lo strumento, diciamo, principe per eccellenza quando si parla di innovazione e quindi potenzialmente riesce un po' a esaudire tutte le esigenze dei diversi tipi di investitori, ma non solo, dello stesso investitore in diverse fasi del mercato. Ad esempio adesso abbiamo un mercato bullish molto forte, realzista, parlo dell'equity, si possono andare a individuare delle soluzioni che permettono di proteggere il gain che sono stati fatti, ad esempio con le soluzioni di equity substitution, quindi chiudo magari una parte del portafoglio sull'equity esposto in certificati che mi danno cedole, quindi mi continuano a estrarre rendimento dal mercato, ma che mi proteggono con delle barriere anche molto profonde, in caso di scivoloni del mercato, che purtroppo nessuno ha la sfera, bisogna dirlo, quindi nessuno può sapere quando arriverà il prossimo beer market o anche solo una, diciamo, correzione molto profonda, no? Quindi sicuramente il certificato è quello strumento che permette di essere sempre, diciamo, aggiornati sui mercati, di essere sempre competitivi sui mercati, forse l'elemento più importante di tutti. Perfetto, grazie mille Michele, molto interessante. Grazie a voi.